Nuove segnalazioni ci giungono in redazione circa l'incuria del decoro urbano in via Kennedy a Favara. Non è la prima volta che ci occupiamo dello stato di degrado in cui versano l'aiuole di quello che da molti è considerato il salotto buono della città. In passato vi abbiamo già mostrato come le piante che non ricevono le cure necessarie limitino il passaggio ai pedoni. Solo dopo gli interventi televisivi dei cittadini dal municipio si sono avute le giuste risposte. Di questo ne sono consapevoli i fruitori di quello spazio pubblico che anche questa volta ci hanno chiamato per segnalare il problema. Alla ricca vegetazione che trasborda dagli invasi si aggiunge anche il problema delle palme secche che penzolano sul marciapiede provocando disagi alla gente di passaggio. Via Kennedy, ricordiamo, è una delle arterie urbane più trafficate. In essa transitano quanti devono recarsi nei principali luoghi di attrazione cittadina. Nelle passate legislature gli amministratori comunali avevano ridato dignità al luogo predisponendo il restyling integrale della via del centro che si mostrava decisamente migliorata. Da un po' di tempo a questa parte si ripete ciclicamente lo stato di abbandono e degrado. Giorni fa era stato rimosso il dirigente del settore perché non ascoltava le istanze avanzate dall'assessore. Noi ci rivolgiamo all'assessore Giuseppe Miglioti affinché il problema segnalato dai cittadini e che persiste da parecchio tempo venga con tempestività risolto. Non è possibile pagare tasse salate, non ultima la tasi e poi avere servizi essenziali pessimi.